e così alla fine ce l'hai fatta dopo anni sei finalmente riuscito a portarla fuori a cena senti che profumo queste rose eppure non sono niente paragonate al tuo profumo tutto sembrava andare per il meglio ma proprio quando pensavi di aver trovato finalmente l'anima gemella hai scoperto che era fascista ecco perché camicia nera brava snellisce ti senti smarrito non sai bene cosa fare perché la dea a cui stai facendo il piedino da 45 minuti buoni ha iniziato a salutare i camerati tendendo il braccio e senti che le vostre anime non vibrano più alla stessa frequenza aiuto e adesso come faccio a portare a termine la mia missione il canale di gross presenta 10 frasi da non dire per rimorchiare una fascista guarda tu per me saresti sempre libera di fare quello che voglio io che ci vuoi fare sono un romantico ma è un manganello in tasca o sei contenta di vedermi manganello quindi non sei un trans no comunque vogliamo dirlo ti avrà anche tradita con tua madre però il tuo ex ha fatto anche cose buone questa è casa mia ah carino il suo paramobile a forma di busto di The Rock e per me i carciofi alla giudea ma mi stai facendo il piedino o il saluto romano con la gamba senti ma posso bonificare la tua palude? no? ma si io sono un po' così un po' pazzarella ti vorrei baciare in tutti i modi più strani non so come spiderman non ti piace a te spericola? no? vertigini? vola un'aquila nel cielo oh l'aiuto della magica ah scusa però di canio grande giocatore possiamo dirlo? oh l'aiuto della magica no? no?